Massaggiate il paziente per favorirne il benessere e il rilassamento, in base alle necessità. Potete massaggiargli una parte del corpo durante il bagno o dopo averla tenuta a bagno. Aiutate il paziente ad assumere una posizione che consenta un accesso agevole alla zona da massaggiare. Soltanto la zona da massaggiare dovrebbe essere scoperta. Se necessario, detergete la zona da massaggiare. Potreste massaggiare il paziente durante il bagno dopo averlo lavato o tenuto a bagno una parte del corpo. In generale, bisogna evitare di massaggiare le prominenze osse, le aree di abrasione cutanea o arrossate. Per effettuare un massaggio alla testa e al collo, posizionatevi alle spalle del paziente. Prima prendete dell'olio o la lozione nelle mani. Stimolate il cuoio capelluto del paziente con la punta delle dita, facendo dei movimenti circolari. Se il paziente lo desidera, utilizzate una lozione o dell'olio per massaggiargli il viso. Non tutti i pazienti lo gradiscono. Massaggiate le tempie del paziente con la punta delle dita, facendo dei movimenti circolari. Applicando una pressione costante e continua, massaggiate i muscoli alla base della testa. Utilizzando tutte le dita, comprimete i muscoli. Questo stimola la circolazione locale e rilassa la muscolatura. Grazie. 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 Per effettuare un massaggio alle mani, sostenete la mano del paziente con entrambe le vostre mani, con il palmo della mano del paziente rivolto in alto. Applicando una pressione costante e continua, effettuate una frizione sul palmo della mano utilizzando i vostri pollici. Ogni dito va massaggiato separatamente, con movimenti circolari diretti dalla base del dito verso la punta. Terminate massaggiando dalla punta delle dita verso il polso con una pressione costante e continua. Continuate con un massaggio all'avambraccio se richiesto o opportuno. Per effettuare un massaggio ai piedi, sostenete il piede del paziente in una posizione comoda e utilizzando tutte le dita, eseguite dei movimenti circolari dalla punta del piede verso la caviglia. Applicando una pressione costante, effettuate una frizione mentre massaggiate la punta del piede dalle dita verso la caviglia. Questo rilassa i muscoli e favorisce la circolazione dell'area distale all'area approssimale. Ogni dito va massaggiato separatamente, con movimenti circolari diretti dalla base del dito verso il letto ungueale. Massaggiate la pianta del piede del paziente utilizzando il dorso del pugno per effettuare i movimenti circolari continui. Comprimete i lati del piede utilizzando tutte le dita. Terminate con movimenti continui diretti dalle dita alla caviglia. Quando si effettua un massaggio ad un paziente, bisogna indossare i dispositivi di protezione personale indicati. Se l'infermiere o il paziente presentano delle zone in cui l'acute non è integra, vanno indossati i guanti. Per effettuare un massaggio alla schiena, partite dall'area sacrale. Con i palmi delle mani seguite i movimenti circolari, quindi esercitate una pressione costante con i pollici lungo i lati della colonna vertebrale. Arrivati alle spalle, eseguite dei movimenti circolari e comprimete i muscoli delle spalle e del collo. Invertite la direzione scendendo lungo la schiena e i lati, esercitando con le mani una pressione costante. Massaggiate l'area della cresta iliaca con movimenti circolari. Continuate il massaggio per 3-5 minuti. Terminate il massaggio con movimenti energici, continui e prolungati. Avvertite il paziente quando il massaggio sta per finire. Concludete il massaggio di qualunque parte del corpo con movimenti di compressione continui. Asciugate l'eccesso di lozione o di olio della pelle se necessario. Assicuratevi che il paziente sia coperto.